Ecco l'entrata in campo delle due compagini, oggi è un big match della giornata, Virtus Castelfrendano con la classica maglia giallorossa e Virtus Rocca San Giovanni con la maglia bianco-rossa, l'arbitro è il signor D'Antuono della sezione di Pescara Entrano anche i ragazzini della scuola calcio, c'è un ragazzino con la divisa di arbitro gialla A disposizione, numero 12 D'Amico Pietro, numero 13 Giulio Giovanni Fate un passo avanti ragazzi, un passo avanti Un passo avanti Numero 16 Amoroso Daniele Numero 17 Massimini Matteo Numero 18 Amore Andrea Allenatore Mister, grande Mister Marco Piccirini Editerà l'incontro il figlio Daniele Ferrara della sezione di Lanciano Sportini, buon minore No, ha sbagliato, tanto uomo Aspetta a te Ragazzini, andate dal Mister So, rettifica l'arbitro è il signor D'Antuono della sezione di Pescara So, rettifica D'Antuono Rottifichiamo il nome dell'arbitro Il signor D'Antuono della sezione di Pescara Il calzetone dove sta?